Il Consiglio Comunale di Agropoli si prepara ad approvare il PUC, Piano Urbanistico Comunale. La pubblica assise è stata convocata presso l'Aula Consiliare di Filippo per il prossimo lunedì 28 dicembre alle ore 8.30. Unico punto all'ordine del giorno. Oltre all'approvazione dei verbali della precedente seduta c'è appunto il PUC. Nell'aprile 2017 lo strumento urbanistico venne adottato dalla Giunta. Il 5 aprile 2018 l'esecutivo Coppola ha operato un aggiornamento al PUC con le osservazioni recepite. In questi mesi l'ufficio di Piano, su impulso del sindaco Adamo Coppola e dell'intera amministrazione, ha lavorato al fine di completare l'iter procedurale. Oltre alle osservazioni e integrazioni pervenute da cittadini e associazioni, ha previsto l'ok da parte degli enti sovraordinati. Provincia di Salerno, Asl, Genio Civile, Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Regione Campania per il SIC. Ognuno per le procedure di competenza. La progettazione è stata curata dall'ufficio tecnico comunale, composta dall'ingegnere Agostino Sica, responsabile del procedimento dell'ufficio di Piano e dell'architetto Gaetano Cerminara, responsabile VAS, geometra Sergio Laureana. Si sono avvalsi di consulenze specialistiche e inerenti l'area urbanistica ambientale, paesaggistica naturalistica, consulenti ufficio pianificazione urbanistica e programmazione socio-economica. A coordinare il gruppo di consulenti esterni sono stati il professor architetto Domenico Francesco Moccia e il professor architetto Roberto Gambino. Ora il PUC è pronto ad approdare dinanzi al sindaco Adamo Coppola e ai consiglieri per l'approvazione definitiva. L'approvazione del PUC, afferma il sindaco Adamo Coppola, è un appuntamento importante per la nostra città dove vige ancora un piano di fabbricazione del 1972. Sono trascorsi quasi 50 anni. Il PUC sul quale abbiamo lavorato instancabilmente, per questo ringrazio per l'importante supporto ai consiglieri comunali e ovviamente gli uffici e per l'impegno profuso, guarda al futuro e punta allo sviluppo e alla crescita della nostra città finché sia ancora più al passo con i tempi. Attrattiva, vivibile.